Salve a tutti e bentornati a Let's Play Paper Mario con Lettle Blade Ninja L'ultima volta abbiamo scoperto dove si trova l'ultimo spirito stellare Quindi è protetto da Tababababha nella foresta eterna Soltanto che è fuggito a quanto pare, quindi magari verrà a trovare noi, chi lo sa Un livello in meno da fare Volevo dirvi un paio di cose Ricordate che qua sotto c'è Waka Waka? Waka! Non potete ovviamente tornare qui all'infinito e colpirlo ogni volta per ottenere una pagnotella Dopo l'ottava volta se non sbaglio Waka muore Si muore E non ve ne darà più Quindi vi consiglio Beh se siete insensibili e non vi importa potete anche farlo Per me non è un problema Ma le pagnotelle sono utili ma fino a un certo punto E qui dietro quel maschio che prima non potevamo rompere c'è un altro super blocco Che daremo a Bombet Che imparerà Powerbomb Nice Ok In questo cespuglio c'è sempre un uovo Quindi è la vostra risorsa di uova qui E torniamo a Todd Town C'è la musica anche quando si torna? Non mi ricordo Spero di sì Tutti a bordo per Todd Town Oh deve essere duro a trasportare gente Se ci sta solo un passeggero Più un compagno Yeah 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 Propongo una mozione per mettere questa musica su tutti i treni del mondo Scusate Potrei premere A per togliere la scena ma non lo faccio Almeno per questa volta dai Vedete passiamo anche attraverso tutto il territorio Koopa Koopa Ah dopo la lunga avventura nel deserto non ce la facevamo più Okidoki Ora Se non sbaglio dopo Ci sono un po' di cose che volevo fare tra Tra un capitolo e l'altro Per esempio le fogne giusto Andiamo a vedere che c'è di nuovo nelle fogne Ok Ok di qua siamo già andati Dove abbiamo sfidato il blooper Oh e qui c'è un blocco E qui ci sono Blooper Eh Ocribbiolina Ok Non mi aspettavo che fosse già qui Ok Questo è Non vedete dal nome Electro Blooper È una forma potenziata di blooper A 50 pv credo Zero difesa Ed è abbastanza potente Quindi Wow Ok non sono pronto per niente Ma non importa Cambiamo con il paracarry Visto che non posso colpirlo con Bombette Grazie Pf inutile E ok Cominciamo a infliggere danni Il primo possibile Un bersaglio così grande È molto difficile da mancare Ok Potenza 4 a quanto pare Ok Così sono già 10 Grazie E 16 danni Come vedete Si elettrifica Per aumentare la potenza E anche per Proteggersi dagli attacchi di Mario Vediamo Shellshot Ah avevo ragione Se lo colpite con una mossa Che può Che può toccarlo Senza subire danni Eh A questo punto del gioco Avete solo Forzatamente avete Solo lo shellshot Di paracarry Per questo Eh Perderà il suo potenziamento elettrico Quindi potrete Di nuovo colpirlo con Mario Quindi basta Switchare i turni Grazie Happy Ok Aumento di difesa Thank you very much Ah 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 Zero Mmm Ho svinito il pf però Smack Ho perso anche il conto Di quanti danni gli ho inflitto Happy Ok Ok Elettrificati quanto vuoi amico Non mi sciocco tanto facilmente Ah 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 Sparatemi Per favore Ok Not too shabby Salto normale Grazie E skydive Okidoki Wow Giusto in tempo E 21 punti stella Bang Un interruttore E qui Teniamo tre utili Tubi blu Se vi ricordate Dal portale millenario I tubi blu Vi portano In città già visitate Qui abbiamo Il primo tubo Per Il villaggio Goomba Sto pensando Se possiamo fare qualcosa Di nuovo Con i potenziamenti Che abbiamo Non penso proprio Qui c'è una noce Goomba Sono pieno io? No Ok Teniamola Poi Di qui abbiamo Il villaggio Koopa E fortunatamente Usciamo proprio vicino Alla casa Di Koopa Koot E Questa volta Si ho deciso Di Eseguire Tutte Le richieste Che ha Tra un video E l'altro E Qui abbiamo L'avamposto secco Arso Whatever Quello che è Quindi potete rapidamente Tornare Dalla La maga Se La magia Finisce Finisce la magia A mezzanotte Ok Basta Ok Proseguiamo di qua Uh Blocchi Soldi Uh La bambola Del pupazzo Di neve Che non ero Solo pupazzo Di neve E la versione Della gelatina Di questo gioco Non congela Però infligge 4 danni A tutti gli amici Invece di 3 Qua dietro Ok Entriamo nel tubo Su per il tubo Là per il tubo Di lato per il tubo Aspettate Queste piattaforme Portano da qualche area Segreta magari Non mi ricordo No Solo contro il soffitto Shbang Ok Però l'electro blooper Me lo ricordavo Più potente Ah Oh Gloombistrici Lasciamoli fare Sto pensando Vado di qua Andiamo di qua Prima Gloombistrici Yay Vi abbiamo già incontrati? Non mi ricordo Non mi ricordo Quindi lascerò dentro La battaglia Comunque Gloombistrici Hanno potenza 3 E hanno Credo 6 PV E non ho più PF Skydive Potenza 3 Si E vedete qua Ci sono le NL Che ci hanno seguito Dal Dal Deserto Arso Stop Time Time Perché ho fatto questo? Avrei dovuto sconfiggere Il Gloombistrice Aioh Smack Grazie E Ti finisco Con lo skydive 1 2 3 4 E Posso usare la prossima battaglia Contro questo Gloombistrice Per dimostrarvi Il potere che ci ha dato A strella Sperando che funzioni su di loro Wow Si mi serve proprio Lullaby Ossia Lina nanna E essenzialmente Addormente i nemici E' come usare una sonnolina Solo che Di solito E' più efficace E E' anche gratis Ok 2 su 4 Non è male Shell Shottiamolo Smack Ah no no 7 PV A quanto pare Smack E' come tecnica Molto utile Se avete Molti nemici Io non la uso Spesso E' contro Un paio di boss Che sono Che sono Parecchio vulnerabili Al sonno Uno in particolare Che è anche Un boss opzionale Ok Si è svegliata La bella Adormentata Gloomba volanti Anche non li abbiamo Incontrati Però sono Dei Gloomba Con le ali Niente di più Non hanno neanche Nessun bonus Di potenza Quindi Nulla di originale Potenza 2 Quindi Con Superguardia Come me Non dovreste Aver problemi A evitare Danni Skydive Along the way Oh Non mi servono I bonus Di difesa Si trovo Che la maga Del portale Millenario Le uso In modo più Providenziale I poteri Cioè nel modo giusto Per esempio Quei 90 O cos'era Punti stella Col trisdombra Quella era Eccezionale Ok Andiamo di qua Un tesoro Abbiamo Power smash Che è essenzialmente Mazza picchio Tessere No Ok Non c'è un modo rapido Per aprire le tessere Lo attiverò Al posto di power jump Perché Perché si E basta Perché sono affezionato A mazza picchio Speedy spin Close call Forse la tolgo Perché non è che mi servo Un rifanda Anche non è molto utile Z Come sia così Quake hammer Anzi Attivo tutte e due Power jump E power smash Visto che Non è detto Che possa sempre usare Uno o l'altro Ci sono dei gombistrici Che scendono Oh C'è anche tutta questa strada Da fare Scendiamo nel tubo Prima Capite Soltanto con il potenziamento Del martello Abbiamo tutte queste strade Aperte Salve Oh Questi blocchi Non possiamo rompere Oh Salve Ok Ora che la battaglia è finita Penso di chiudere qua il video Continueremo la prossima volta Nei sotterranei E Forse con qualcos'altro Chi lo sa Comunque Se il video vi è piaciuto Se volete iscrivetevi E Quindi Alla prossima Ciao Cavole quante monete Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima